A domenica in, programma televisivo che ha ricordato Maurizio Costanzo, Claudio Lippi è stato uno degli ospiti presenti. Durante lo spettacolo, la Lippi ha fatto un commento su Costanzo difficile da capire per Mara Veniera a causa di problemi audio in studio. Lippi si è scusato per la sua presenza nello show e in seguito ha fatto un altro commento che avrebbe avuto bisogno di un avvocato per difendersi. Altri ospiti presenti in studio furono Vittorio Sgarbi, Giampiero Mughini, Pupi Avati, Bruno Vespa, Walter Veltroni, Giovanna Ralli e Giorgio Assumma, il migliore amico di Costanzo.